Si chiama Colapesce, la leggenda sull'isola, l'esperienza spettacolo ideata e messa in scena dalla marionettistica Fratelli Napoli, che partirà dalla fortezza dell'isola di Capopassero di Portopalo a Siracusa. Questo è uno degli spettacoli di agosto del Museo Internazionale delle Marionette di Palermo Antonio Pasqualino, che sposta le sue attività anche fuori la sede ufficiale. Una performance di tipo immersivo, musicale e teatrale, che rapisce lo spettatore, e catapultandolo tra le pagine di storia della Sicilia di fine ottocento. Lo spettatore vivrà un'esperienza unica. Arrivato al molo di Scalo Mandri e a Piazza dei Due Mari di Portopalo di Capopassero, lo spettatore verrà trasbordato sull'isola. Sbarcato sull'isola, verrà guidato dal servizio Accoglienza con la pesce, in un percorso di 700 metri immerso nella natura della bellissima isola, che lo condurrà alla fortezza spagnola, dove potrà assistere agli eventi di un piccolo villaggio di pescatori in cui l'annessione al Regno d'Italia, le delusioni e le speranze, la povertà di molti e la capacità imprenditoriale di pochi diventano il contesto ideale per raccontare l'atto eroico di un giovane uomo, figlio del mare, che si immola per sorreggere la sua terra. Le cialome dei tonnaroti, le litanie delle donne rimaste a terra, i racconti dei pupari che incantano piccini e grandi costorie fantastiche, come appunto la leggenda di Colapesce, sono l'affascinante colonna sonora di questa narrazione. E infine la location, un forte che per la sua ineguagliabile posizione può diventare prigione o porto sicuro, punto di luce nella notte buia, grazie al faro svettante sulla cima. Ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle ore 17 in sala teatro continueranno invece i consueti spettacoli del Museo Antonio Pasqualino. Dalla penna di Giusto lo dico, autore di La storia dei paladini di Francia, ecco il romperi scena Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago, ma la Gigi insieme a prodigi, innamoramenti, duelli, scambi di persona e colpi di scena.